Nuova Vandrea non è un libro, Nuova Vandrea è un pensiero, non abbiamo più un nemico di fronte, siamo in tanti al fronte, siamo in tanti a voler combattere e pian piano si stanno sfaldando tutte le schiere, perché di fronte non c'è nessuno, c'è il nulla, contro il nulla non si può niente.